Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. Per il calcio a 5 di Serie B termina oggi la tre giorni organizzata dalla polisportiva Chaminade in piazza Municipio. È stata allestita una gabbia per il torneo 3 contro 3. La manifestazione per far conoscere alla città la realtà della polisportiva fatta di prima squadra, soprattutto di settore giovanile. Domenico Scarnata, direttore generale della Chaminade. Un'avventura iniziata per te, Massimiliano Di Cuia, praticamente da qualche mese mossi dalla volontà di fare un progetto serio. Sì, abbiamo tutta l'intenzione di fare un progetto serio basato su una mission e su una vision, diciamo come se fosse un'azienda. La vogliamo riportare nella scuola calcio e abbiamo tutta l'intenzione di incrementare il numero degli iscritti che poi saranno sostanzialmente i futuri ragazzi della squadra della Chaminade. Sì, i futuri ragazzi della prima squadra, dunque puntate moltissimo su questa scuola calcio, addirittura introducendo delle categorie di età tenerissime. C'è la novità dai 3 ai 6 anni. Vabbè, quella categoria diciamo che è una categoria satellite alla scuola calcio perché in quell'età è più una fase di gioco. Quindi ci sarà questa fascia di età che verrà trattata da un punto di vista psicomotorio e di gioco, non espressamente di calcio. Per quanto riguarda gli obiettivi della prima squadra in Serie B, quali sono? L'obiettivo della squadra in Serie B sono sicuramente quelli di non fare un campionato di vertice, ma rimanere nella categoria, fare bene e far avvicinare quanta più gente possibile a questa società. Un progetto pluriennale da parte tua e di Massimiliano Di Cuia, sicuramente c'è un'ambizione nascosta? Certamente, non vogliamo fare un anno e andare via, vogliamo fare una cosa a duratura, concreta e seria. Mountain Bike domenica in programma, l'Amathesium Marathon, la gara è organizzata dall'Amathese Mountain Bike, dall'ASD La Nebbia e dal Comitato Regionale Molisano della Federazione. Tra gli oltre 300 iscritti spiccano i nomi di Pasquale Sirica, Luigi Ferrito e Giovanni Pensiero. Tra i circuiti previsti, Marathon di 60 chilometri, Gran Fondo 38 chilometri, Escursionisti 35 chilometri. Calcio di Serie D, il Campobasso si allena in vista del debutto ufficiale in questa stagione. Domenica al Selvapiano arriva la Civitanovese, fischio di inizio alle 16. Oggi al via la campagna abbonamenti per la stagione 2016-2017. La curva costa 50 euro, tribuna laterale 100, tribuna centrale 200. A proposito della squadra, ai nostri microfoni il centrocampista Grazioso. Leo Grazioso, un memorial dedicato a papà, è uscita anche la lacrima, però è stato bello l'abbraccio del pubblico del San Leo che si è stretto intorno alla famiglia Grazioso, intorno a te. È stata una bella giornata di sport. Sì, è stata veramente bella. Abbiamo onorato mio padre, sono davvero contento. Mi sono venuti i brividi quando hanno fatto la presentazione di questo memorial. Sono davvero felice e dispiace che non è qui con noi, però andiamo avanti e per forza dobbiamo andare avanti. Quindi sono contento così. Anch'io lo conoscevo, so che hai fatto tanti sacrifici per farti diventare un calciatore, un calciatore che adesso sei diventato, tra l'altro contro la squadra della tua cittadina hai avuto anche la fascia da capitano, una fascia che potrebbe diventare tua nel corso di questa stagione. Beh, lo spero. Però alla fine io, come ho sempre fatto, anche l'anno scorso, mi sono sempre impegnato per un posto a titolare. Poi se il mister mi dà l'opportunità di indossare la fascia del capitano, benvenga. È un doppio piacere. Io continuo a fare come ho sempre fatto. E purtroppo da quest'anno non c'è più papà che farei chilometri per me, però ci sono i tifosi, c'è la famiglia che verrà sempre a sostenermi come hanno sempre fatto. Siamo di un campo basso dai due volti rispetto all'anno scorso e quello di quest'anno. L'anno scorso per puntare in alto, quest'anno si parte per una salvezza. Lo avete dimostrato anche contro il Real San Martino, a parte che eravate un po' impallati. Bene o male siete riusciti a girare bene, però insomma c'è ancora tanto da lavorare, soprattutto qualche rinforzo ci vuole. No, sì, purtroppo abbiamo cambiato in società, è venuta gente nuova. Hanno fatto la scelta di rinnovare tutta la squadra, tranne me e Lucchese. Diciamo che stiamo lavorando per fare un buon campionato. L'obiettivo è prima la salvezza, poi vediamo durante la stagione cosa succederà. Però l'importante è fare bene, migliorarci partita dopo partita e poi ci prendiamo. Adesso sei uno dei più esperti di questa squadra, visto che è una squadra giovanissima. Sì, siamo molto giovani, però sicuramente qualche innesto arriverà di sicuro per rinforzare la rosa. Benvenga, almeno così faremo un buon campionato perché ci servirà per confermarci quello che abbiamo fatto l'anno scorso. A Coppa Italia quale preparazione proprio per il campionato? Sì, l'abbiamo in casa, adesso l'abbiamo saputo, contro la Civitanovese. Da martedì ci prepariamo al meglio perché fino a oggi abbiamo fatto doppia seduta dal 26 luglio e abbiamo fatto una preparazione davvero dura col Miss, però adesso siamo un po' imballati. Però da domenica inizieremo a fare, sperando di iniziare con una vittoria. L'Olimpia agnonese ha presentato preannuncio di reclamo in merito alla gara persa contro la Madre Pietra Dauna. I Granata si appellano allo schieramento in campo di un giocatore con una posizione di tesseramento irregolare. Basket partita, la preparazione atletica delle due molisane di Serie B. Intanto operazioni di mercato in uscita per la cestistica Campovasso. La pista di atletica dello stadio Lancellotta di Isernia ha ospitato il primo giorno di allenamento del Globo Basket stagione 2016-2017. Coach Sanfilippo ha stilato il programma che prevede sedute di atletica alternate a sedute di scarico in piscina per poi iniziare il lavoro in campo. Vista la giovaneità del roster, il coach dei Bianco Celesti punta molto sulla buona condizione atletica dei suoi giocatori dove manca la tecnica per un discorso di esperienza in campo dovrà arrivare la grinta e la determinazione. Quindi arrivare al 2 ottobre con una condizione fisica ottimale è la prerogativa dello staff tecnico del Globo Isernia. Ma i tifosi non dovranno attendere molto prima di vedere all'opera la formazione di Patron Ricci. Il 31 agosto, prima amichevole di precampionato al Palasport di Isernia, arriva Scauri. Dal palazzetto dello Sport di Isernia al Palapede Montana di Venafro dove è iniziata la stagione della Dynamic Venafro. Anche per la squadra di coach Arturo Mascio ha allenamenti intensi con un ricco precampionato. Sabato 3 settembre il primo test a Valmontone contro una formazione di pari categoria. Ancora il 7 a Scauri Serie B prima delle 4 casalinghe 10, 14, 20 e 22 settembre. A chiudere la fase di precampionato l'amichevole a Madaloni sabato 24 in vista dell'inizio dei giochi di domenica 2 ottobre con la prima trasferta a Senigaglia per il Venafro. Scendiamo nel campionato di C-Silver. Non ci sarà la cestistica Campobasso che ha scelto di puntare sul settore giovanile, ma i tesserati bianco-blu hanno subito trovato squadra. Ivan Traversi, classe 1998, si è già unito al gruppo del Magic Chieti. Traversi ha iniziato a giocare per la cestistica nel 2011, partecipando alle finali nazionali Under-14 a Bormio nel 2012 e arrivando a vincere l'MVP delle finali regionali nel maggio del 2013. Il nuovo giocatore del Chieti conosce bene il campionato, infatti esordito in C2 a 15 anni, sempre con la cestistica. Nella stagione 2015-2016 ha fatto parte in qualità di capitano della rappresentativa regionale Under-18 in vari tornei nell'Abruzzo e nel Lazio. Indosserà la casacca del Chieti anche Francesco Romagnoli, classe 97. Nel suo curriculum ha giocato fino a 14 anni nella menzana Campobasso. L'anno successivo è stato girato in prestito alla Stella Azzurra Roma, con cui è diventato vicecampione regionale e vicecampione italiano Under-15 a Desio. L'anno successivo è passato a titolo definitivo nella cestistica Campobasso, dove ha avuto la possibilità di giocare sia i campionati giovanili che la Serie C Silver. A proposito della cestistica Campobasso, ancora una convocazione azzurra per Mimmo Sabatelli, che farà parte dello staff per il settore squadra nazionale, in occasione del centro di alta specializzazione in programma Rocca-Porena di Cascia dal 31 agosto al 4 settembre. Ed ora la nostra rubrica è il cartellino rosso. Questa settimana ci stiamo occupando delle condizioni davvero disastrose del fiume Biferno. E va, e va, va avanti tu che adesso c'ho da fare, sarai la mia metà ma se non parti, diventi un'altra bolla mia tre quarti. E va, e va, non puoi sapere piacere che me fa, Magari qualche amico te consola, Così tu fai la scarpa e lui te sola, Io te c'è mano sola, Io te c'è mano sola, Solo senza te me. Vi invitiamo a segnalarci altre situazioni simili all'indirizzo sportighiocciolatelemolise.com oppure inviando un messaggio sulla pagina Facebook di Domenica Sport. Dopodomani, a partire dalle 10, il Circolo della Vila Cariello di Termoli ospiterà la prima edizione della manifestazione denominata il North Walking Va in Onda, evento organizzato in collaborazione con il CIP Molise. L'obiettivo primario è quello di far avvicinare il maggior numero possibile di disabili a questa disciplina sportiva. Per lo staff del Circolo della Vila prosegue il lavoro per l'organizzazione dei campionati italiani doppi IOT in programma a Termoli dall'8 all'11 settembre. Sontriamo Domenico Guidotti, responsabile organizzativo di questa importante manifestazione che si svolgerà dall'8 all'11 settembre. Ma come avverrà l'organizzazione proprio in acqua? Questo è un campionato giovanile doppi, cioè sono tutte le imbarcazioni formate da due persone. Ci saranno tre campi di regata, adesso dobbiamo decidere se faremo tutti e tre i campi fuori al rio vivo o faremo un campo nell'altra zona di Termoli, la zona nord. Sono tre campi di regata e su tre campi di regata ci sono 12 classi giovanili che faranno la manifestazione. La zona dunque è adatta a iniziative di questo tipo, anche per il vento? Sì, diciamo che questa manifestazione, l'organizzazione di questa manifestazione è della Federazione Italiana Vela. La Federazione Italiana Vela la dà ai circoli che riescono a organizzare e soprattutto ai posti dove il vento lo permette. Diciamo che questa la baia di rio vivo è una delle zone forse più accreditane, abbiamo fatto un sacco di campionati. Adesso lo sforzo sarà molto forte, cioè voglio dire avere in mare 800 persone e gestire l'organizzazione e la sicurezza in mare non sarà facile. Un impegno quindi organizzativo non indifferente ma anche una vetrina proprio per il circolo dunque? Sì, una vetrina per il circolo ma è tutta la regione. Noi poi abbiamo coinvolto, caso unico, noi come federazione dipendiamo anche dall'Abruzzo, abbiamo coinvolto anche i circoli di Vasto e di Ortona proprio perché questa zona è molto adatta a questo tipo di manifestazione. C'è consapevolezza in Molise a Termoli per questo sport? Diciamo che lo sport della vela lo abbiamo notato anche in questi giorni durante le Olimpiadi, durante le manifestazioni veliche non hanno trasmesso e hanno preferito trasmettere altro. La vela non è molto seguita, ahimè, in Italia e ovviamente anche nella nostra regione. Noi siamo un circolo che credo che questo sia il 24esimo o il 26esimo campionato italiano che si svolge in questo circolo e per un circolo così giovane è una novità. E ci sono anche equipaggi del posto? Sì, gli equipaggi nostri sono formati da singoli, sulle tavole e sulle imbarcazioni singole, però sicuramente adesso stiamo organizzando per far partecipare anche su una classe un equipaggio termolese. Calcio regionale d'eccellenza, l'Isernia prosegue gli allenamenti e le ufficializzazioni. Cinque giocatori che ieri hanno firmato, Giordano Avicolli, portiere classe 98 con esperienze nella primavera del Venezia, Lega Pro e della Fermana in serie D. Stefano Santilli, centrocampista classe 90 già in bianco celeste nella stagione 2014-2015, quando contribuì con 16 presenze alla vittoria del torneo d'eccellenza. Mario Corbo, difensore isernino classe 95, anche lui in passato all'Isernia con 26 presenze in serie D negli anni 12-13-13-14. Paolo Latorre, difensore classe 97 riconfermato dalla passata stagione. E Luigi De Vito, difensore classe 96 proveniente dal comprensorio Bairano. Prosegue la preparazione atletica del Real San Martino, squadra giovane ma competitiva. Nicola Palmieri, team manager del Real San Martino, giornata splendida di sport. La città di San Martino ha abbracciato la famiglia Grazioso ricordando l'amico Vincenzo. Soprattutto avete fatto anche emozionare il giovane Leo che è stato anche tra l'altro capitano del campo basso. Una bella giornata. Sì, sicuramente è una bellissima giornata. È stata una cosa che la società ha voluto fortemente. Un po' perché Vincenzo era una persona che è davvero eccezionale. Si faceva amare da tutti. Era una persona davvero di cuore. E di quasi sincerità l'emozione l'ho avuta anche io all'inizio. Io ero a Bordocambo, non ero proprio lì vicino dove c'è stata l'appreviazione. Però ho avuto anche io il mio momento di emozione. Perché voglio ricordare Vincenzo davvero come una persona per quello che era. Davvero, davvero squisita. Un papà che ha fatto tanto per il figlio per farlo giocare. Questo ragazzo che adesso si ritrova capitano al campo basso. Speriamo che continui a mantenere stretta quella fascia. Sì, sì, sicuramente la mantenere stretta. Come si diceva prima, lui quest'anno diciamo che sarà l'uomo d'esperienza del campo basso. Visto tutti gli avvicinamenti che ci sono stati lì in società. Io credo che lui porterà alta la bandiera del campo basso e giocherà un fantastico campionato. Due squadre, San Martino e il campo basso, che hanno fatto le prove per la Coppa Italia che parte la domenica e poi per il campionato. Si proseguirà con le prove con la Coppa Italia, però due squadre che sono in forte rodaggio. Forse meglio voi. Noi, sinceramente, veniamo da due settimane scarse di preparazione. Abbiamo avuto, tra virgolette, anche un po' di problemi per gente che ancora non rientra, chi chi era in vacanza, chi era per lavoro. Però, tutto sommato, abbiamo fatto un ottimo partito, soprattutto il primo tempo, che è quello che abbiamo nelle gambe, effettivamente. Il campo basso l'ho visto anche molto, molto vivace come squadra. Come dicevamo prima, è una squadra giovane. Io credo che si toglieranno anche loro delle soddisfazioni, anche se il loro primo obiettivo sarà proprio quello della salvezza, perché hanno rifatto tutta la squadra. Sarà un campionato bello anche per loro e spero lo sarà anche per noi. Rial San Martino che ha invertito completamente la rotta, squadra ingiovanita, squadra tra l'altro affidata a Gianfranco Buro, che è un sergente di ferro per quanto riguarda la panchina. Si è ripartiti, ripartirete da lui come timoniere di questo team. Una squadra tanto giovane, tra l'altro con l'obiettivo di continuare a lanciare i ragazzi. Sì, infatti Gianfranco è una persona che sa, come si suol dire, il fatto suo. Quindi credo che quest'anno si toglierà tante soddisfazioni, anche per i ragazzi che abbiamo. Non a caso oggi abbiamo visto un di bello, di cui ne parlavamo anche prima, con classe 2000 che ha fatto una partita strepitosa. Ma non solo la partita di oggi, ma anche nell'altro amichevole che abbiamo fatto la settimana scorsa col Campomarino. Quindi sarà un ragazzo molto promettente, ma insieme anche a Saracino, a Di Bernardo, tutti gli altri ragazzi, sempre classe 2000, che Gianfranco quest'anno ha intenzione di farli crescere e premiare anche l'ottimo lavoro fatto da Mezzalingua. Perché non ci dimentichiamo che questi sono ragazzi che vengono da anni, che sono partiti dall'esordiente con Giuseppe. Quindi pian piano sono arrivati fino agli allievi e quest'anno faranno loro i soldi in prima squadra. Non a caso un campionato di promozione, che pur sembra la Serie B della Regione. Il prossimo fine settimana la Fly Sportina Il Molise Termoli sarà impegnata nella prima edizione del torneo Città di Reggio Calabria, che ha come scopo primario quello della promozione e diffusione del basket in carrozzina. Nel pomeriggio di venerdì cestisti paralimpici svolgeranno l'ultimo allenamento di rifinitura, mentre nella giornata di sabato 27 prenderanno parte al torneo che si svolgerà sul lungomare di Reggio Calabria. Il ciclismo termina ad Inti Prete, frazione di Castelpedroso e il trittico del Molise. Domenica in programma la terza edizione del Memorial Carmine Tamburri, organizzato dal gruppo sportivo Molise Ricambi, partenza prevista intorno alle 15. Tornando però alla seconda tappa di Boiano, dove si è svolto il Memorial Nino Priolo. Abbiamo un'intervista. Antonio Tamburri, titolare di Molise Ricambi. Vi spendete molto, non solo tu ma ovviamente tutta la comunità boianese per l'organizzazione di due fasi, due tappe del trittico del Matese, questa di Boiano e quella di Castelpedroso. Allora questa di Boiano è terminata da pochissimo ed è stata sicuramente una bella chiusura di gara, un bel duello verso il podio. Sì, mi corregho il trittico del Molise, non del Matese. Comunque come gara penso che sia stata una bella gara, una bella manifestazione. Il nome dell'organizzazione è la Molise Ricambi, come lei diceva e mi raccordava, che fa capo a me, che sono uno dei titolari, nonché molto appassionato di bici, perché sono quest'anno il trentottesimo anno che organizzò le gare a Boiano. Praticamente non siamo nove linee, veniamo da molto prima che morisse il compianto Nino Priolo, che facciamo il Memorial, facciamo sempre altre gare prima. Detto questo, quest'anno è stata ancora una gara molto bella, come gli altri anni. Sembra che ogni anno ci miglioriamo. Spero che anche negli anni futuri ci miglioriamo sempre, commettendo sempre di meno errori di quelli che si commettono nell'organizzazione. Certo, abbiamo raccolto molti pareri dei ciclisti, i quali praticamente vengono da tutta Italia. Il primo per esempio da Nanni, il secondo da Ragusa, che è lontanissimo da qui. Hanno comunque apprezzato anche l'aspetto turistico, perché poi arrivare a una certa ora a Boiano ha dato la possibilità anche di visitare la stessa cittadina di Boiano. Sì, queste nostre gare diciamo che sono gare regionali, ma a tutti gli effetti sono gare nazionale, perché se noi vediamo, sono state iscritte 32 società appartenendo a tutta Italia. L'unico rammarico che io dico sempre è che noi nel Molise è il secondo anno che non abbiamo atleta per questa categoria allievi. Questo è il mio rammarico, perché abbiamo speso 20 anni veramente per i ragazzi e adesso ci siamo dovuti fermare un attimo con la speranza che arrivano altri allievi. Questo sicuramente è un punto dolente. Se non vi fermate, perché domenica c'è la terza tappa del Trittico a Castelpetroso, ci puoi anticipare come sarà lì il percorso? Sarà diverso rispetto a questo di Boiano a livello di altimetria? Allora a livello di altimetria è un po' più duro di questo qua, però scendiamo un po' con i chilometri. Là non sono 77, ma arriviamo a 62 chilometri, perché essendo più duro accorciamo un po' la gara. È più duro, è più duro poi l'altimetria, ci sono dei strappi un po' più duri, però tutto sommato non è molto sopportabile. Nuoto l'amministrazione comunale di Termoli. Questo pomeriggio ha organizzato una cerimonia per celebrare gli 80 anni di carriera del nuotatore Antonio Casolino. L'appuntamento questa sera alle 19 in Piazza Duomo a Termoli. Questo fine settimana in programma a Campitello Matese la seconda edizione del Fly Show, l'aduno internazionale di aeromodellismo che richiamerà in Molise circa 80 appassionati di questa disciplina, da aeromodelli classici a quelli a turbina, da una velocità di 50 chilometri orari a quelli che sfiorano i 400 chilometri. Bene, sarà uno spettacolo. È tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.